Rispetto per i lavoratori, stop allo sfruttamento e al caporalato. E' questo lo scopo della manifestazione partita oggi pomeriggio da Piazzale Libertà organizzata dai sindacati CGL e Cisle Will. Il lungo corteo si è snodato per le vie del centro attraversando stradone farnese Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere Piazza Cavalli. Oltre 4.000 i lavoratori che vi hanno preso parte, soprattutto dopo la tragedia che si è consumata al polo logistico di Piacenza dove un lavoratore è morto schiacciato da un camion. Siamo qui per manifestare, per chiedere la dignità al mondo del lavoro a chiedere tutte quelle garanzie, quelle tutelie che possono avere i lavoratori dire basta ai voucher e tutte quelle tipologie di lavoro che sono dei lavori precari e non hanno nessun tipo di diritto per i lavoratori. Noi vogliamo dire basta alle morti bianche e vogliamo che finalmente si riesca ad obbligare sia le associazioni teatrali sia le aziende ad investire molto di più nel comparto della sicurezza sul lavoro. Il dato che noi abbiamo registrato, malgrado ci siano meno posti di lavoro aumenta in modo esponenziale la percentuale delle persone che muoiono sul lavoro, si infortunano sul lavoro. Oggi sappiamo che sulla logistica ci sono troppi problemi, i cambi appalti, i cooperativi che nascono che vanno via e tutto quanto. Quindi penso che anche l'autorità, le gente ci devono mettere anche con il lavoratore per cercare di risolvere queste problematiche della logistica. In Piazza Cavalli hanno preso la parola Giovanni Luciano, segretario nazionale della CISL, Giuliano Zignani, segretario generale Will Emilia Romagna e Vincenzo Colla, segretario generale CGL Emilia Romagna. Tra i manifestanti ai quali si sono uniti numerosi sindaci e autorità, non sono mancati disoccupati, pensionati e anche semplici cittadini che hanno deciso di manifestare solidarietà nei confronti delle vittime del lavoro.